uscita, abbiamo visto qualcosa da queste parti, contato, ricevuto, l'avvio avanzato in ingresso, scansione, torna indietro, c'è un uomo a terra, abbiamo un morto, si ricevuto, l'avvio avanzato in uscita, abbiamo visto qualcosa da queste parti, contato, ricevuto, l'avvio avanzato in ingresso, scansione, torna indietro, c'è un uomo a terra, abbiamo un morto, si ricevuto, l'avvio avanzato in uscita, abbiamo visto qualcosa da queste parti, contato, l'avvio avanzato in ingresso, scansione, torna indietro, c'è un uomo a terra, abbiamo un morto, si ricevuto, l'avvio avanzato in uscita, abbiamo visto qualcosa da queste parti, contato, ricevuto, l'avvio avanzato in ingresso, scansione, torna indietro, c'è un uomo a terra, abbiamo un morto, si ricevuto, l'avvio avanzato in uscita, abbiamo visto qualcosa da queste parti, contato, l'avvio avanzato, ricevuto, l'avvio avanzato in ingresso, scansione, torna indietro, c'è un uomo a terra, abbiamo un morto, si ricevuto, l'avvio avanzato in uscita, abbiamo visto qualcosa da queste parti, contato, l'avvio avanzato, ricevuto, l'avvio avanzato in ingresso, scansione, torna indietro, c'è un uomo a terra, abbiamo un morto, si ricevuto, l'avvio avanzato in uscita, abbiamo visto qualcosa da queste parti, contato, l'avvio avanzato in uscita, abbiamo visto qualcosa da queste parti, contato, l'avvio avanzato, ricevuto, l'avvio avanzato in ingresso, scansione, torna indietro, c'è un uomo a terra, abbiamo un morto, si ricevuto, l'avvio avanzato in uscita, abbiamo visto qualcosa da queste parti, contato, l'avvio avanzato in ingresso, scansione, torna indietro, c'è un uomo a terra, si ricevuto, l'avvio avanzato in uscita, c'è un uomo a terra, abbiamo un morto, si ricevuto, l'avvio avanzato in uscita, l'avvio avanzato in uscita, abbiamo visto qualcosa da queste parti, contato, l'avvio avanzato in ingresso, scansione per... torna indietro c'è un uomo a terra abbiamo un morto si ricevuto l'avvio avanzato in uscita abbiamo visto qualcosa da questa parte coltato ricevuto l'avvio avanzato in ingresso scansione per... torna indietro c'è un uomo a terra abbiamo un morto si ricevuto l'avvio avanzato in uscita abbiamo visto qualcosa da questa parte coltato ricevuto l'avvio avanzato in ingresso generale supervec Ichrano l'avvio avanzato in ingresso inscrizione Grazie a tutti. 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 a tutti. Tempo scaduto. Addio al contratto. Avrai un'altra possibilità. Non sfrecarla. Ottima uccisione. Marco il resto della squadra sulla mappa tattica. Buona caccia. Sono sotto attacco. L'ho dovuto fare per conto mio. Uccisione confermata. Sappiamo che... Un compagno è tornato in squadra. Bene. Attenzione! Movimento! Rete nemica violata. Individuate le loro stazioni a plink e scaricate i dati prima che ci buttino fuori. Compagno è tornato in campo. Ben fatto. Nemici in questa zona. Mi muovo. Nemici qui! U avvi nemico nel settore. E attività nemica. Un avvio stile attivo. Un avvio stile attivo. Cazzo in avvicinamento. Cazzino avvicinamento. Qui c'è un amico Uo Dio, stile in servono Alcuni membri del tuo team non sono stati Siamo in giro Attenzione Uccisione confermata, sappiamo dove sono gli altri Rischieramento autorizzato Qui c'è un nemico I rinforzi sono in arrivo Rete nemica di nuovo in sicurezza E' finita Sei tra gli ultimi 25 Bel lavoro UAV nemico nel settore Compagno tornato in campo Ben fatto I nemici hanno schierato un UAV di disturbo Ritorno sta per finire Mi raccomando Un compagno è tornato in squadra Bene Uo Dio, stile attivo Il gas è sempre più vicino I rinforzi sono in arrivo Vado qui Raggiungi la zona piccola Sì attività nemica Mi hanno beccato I nemici hanno richiesto un attacco aereo Sta arrivando un nemico Attenzione in alto Versaglio a terra Marco i suoi compagni Sì attività Ritorno disattivato Adesso non si scherza più E' attività nemica Nemico in arrivo nell'area Guarda dove spari L'ho centrato Mi serve un medico Soldato nemico in arrivo Piatri in movimento Piatri in movimento Diriggiti alla zona sicura Uno in meno Mi colpiscono! Sta arrivando un nemico, attenzione in alto! Granata partita! Contatto! Contatto! Per poco! Ancora corsa! Gas in arrivo! Mentre i primiti in cui porta a casa la vittoria, ne restavano solo 10. Imparate dalle sconfitte! Il fallimento è il vostro maestro. E ciao ragazzi. Sì, tranquillo. Grazie a tutti. 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 Sì. Andiamo via. Grazie a tutti. 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 Perché parlare inglese? Grazie a tutti. 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 Un compagno è tornato in squadra. Bene, sta arrivando un nemico. Attenzione in alto. Grazie a tutti. 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 Riturni in campo. Forza, vendicati. Uccisione confermata. Sappiamo dove sono gli altri. Ottima uccisione. Marco il resto della squadra sulla mappa tattica. Buona caccia. I rinforzi sono in arrivo. Nemici in questa zona. Nemico distrutto. I suoi amici sono marcati sulla mappa tattica. Un compagno è tornato in squadra. Bene, ho marcato gli altri operatori di quella squadra. Stanniamoli. Attenzione, movimenti. Annullare. Mi muovo. I rinforzi sono in arrivo. Andiamo. Uabio stile in sorvolo Compagno tornato in campo Ben fatto E attività nemica E atti in movimento Versaglio a terra Marco i suoi compagni Soldato nemico in arrivo Una parte del tuo team è fuori dalla zona sicura Ottima uccisione Marco il resto della squadra sulla mappa tattica Buona caccia Una squadra integra lì I rinforzi sono in arrivo Nemico distrutto I suoi amici sono marcati sulla mappa tattica Compagno tornato in campo Ben fatto Marcando gli altri operatori di quella squadra Stagniamoli No cazzo Ma come cazzo mi ha visto Vuoi ancora combattere Versaglio a terra Marco i suoi compagni Uccisione confermata Sappiamo dove sono gli altri Un compagno è tornato in squadra Bene Saldi attivi Prezzo delle stazioni di acquisto ritoccati Ne restano solo 25 Saldi attivi Occhio alle spalle Finestra di ritorno in chiusura Sei di nuovo in azione Statti dentro I rinforzi sono in arrivo Saldi terminati Prezzi tornati alla normalità Compagno tornato in campo Ben fatto Movimento! Il nostro alleato ha disertato Ridurremo il vostro tempo di rischiamento Perdete terreno Non ci sono Non ci sono Ci aspettavano, cazzo Cos'era inna, ci spiace? Cazzo Vai otterset? Cazzo Mi Grazie a tutti. 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 No 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 c'è gente c'è gente. Si rianima quello? Grazie a tutti. Oh come cazzo... E' tornato di nuovo... Sopra si... Il tuo team è... Il tuo team è nella zona sicura. No 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 no... Marco il resto della squadra sulla mappa tattica. Buona caccia. Grazie a tutti. Sei al sicuro. Sei al sicuro. Ehm... 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 Trovate le loro stazioni... Trovate le loro stazioni uplink e recuperate le informazioni prima che vadano offline. dietro dietro... dietro dietro... Ho marcato gli altri operatori di quella squadra. Stagniamoli. Dicisione confermata. Dicisione confermata. Sappiamo dove sono gli altri. UAB alleato online. Un picco... Ok. UAB nemico nel settore. L'obiettivo è eliminare tutti i bersagli. Nemico distrutto. I suoi amici sono marcati sulla mappa tattica. Carina arrivo. Viene... e arrivo lascia delle munizioni qui qui abbiamo una cassa di munizioni affrettati verso la zona sicura il nostro UAV è in servono obiettivo principale raggiunto bersagli eliminati siamo solo per qua sinistra sinistra mi ha mirato qualcuno non abbiamo più accesso alla rete nemica stavolta ci è andata male uno lì mi ha messo giù ho dovuto fare da sola ho ammarcato gli altri operatori di quella squadra stariamoli mi hanno beccato attenzione movimento hai una piastra una piastrina ho detto che quelli mi sa che faranno giro siamo in territorio ostile attenzione abbiamo un chup qua possiamo reale mare ah ho visto l'ho visto uno giù ci sono armi qua venite qua venite qua c'è uno sopra ok c'è uno qua sopra c'è uno 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 e non ho più c'è uno c'è uno c'è uno rifornito prendete quello che ci serve oh ragazzi doveva? è lì un shot cazzo, un shot non ci credo, avevo l'arma scarica, avevo l'arma scarica in casa ok, è morto, morto potrei sapere una mia piastra, ma vediamo forse a questo no, dietro, dietro dietro di nuovo, qua eh ma forse restiamo incastrati, mi sa che questo era da solo consiglio di puntare subito alla zona sicura, c'è molta strada da fare facciamo un giro alto, facciamo un giro alto eh, scenderanno, guarda, sono arrivati, guarda, è lì grande e niente, senza piastra vado giù subito dimmi che hai... non ha niente cazzo spiaggia in zona lì, uoh sceso a tetto Il gas è sempre più vicino La zona sicura è piuttosto lontana Meglio affettarsi Mi colpisca carajo Mi butto in tunnel Se non muoio Meglio non mi buttavo Non ho detto che hai messo giù un altro Non ho detto che hai messo giù un altro Ma erano tre in squadra Perché ho visto Quando mi ha messo due Quello Ho visto che rianimava Quello che l'hai messo te Un altro Erano due lì Il terzo che l'ho ammazzato E' venuto dopo te Da'vi faccio Ultima raga Che dopo domani è per una settimana o tanto da fare A bella onda fare Buo a terra dei camper Preparate l'attrezzatura. Manca poco. Soldato nemico in arrivo. Soldato nemico in arrivo. Basta con l'addestramento. Adesso affronterete nemici veri. Soldato nemico in arrivo. Mancano 5 secondi. Buona fortuna laggiù. Ritorno. Sopravvivi per tenere la tua squadra in gioco. Marca un punto di laggio per la squadra. Sopravvivi per tenere la squadra in gioco. Sopravvivi per tenere la squadra. Sopravvivi per tenere la squadra. Sopravvivi per tenere la squadra. un'altra scelta la via ossidio è attivo non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non credo non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è 500 abbiamo abbiamo qui c'è denaro 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 un'altra equipaggiamento per voi nuovi nemico nel settore non sono respawnato sta arrivando un nemico attenzione in alto un nemico nell'aerea uccisione confermata sappiamo dove sono gli altri bersaglio a terra marco i suoi compagni dove è manca uno è dato team wipe annettamento lancio di equipaggiamento alleato andiamo allo stadio andiamo via perché arriva il gas ragazzi c'è senso UAB ostile in sorbono UAB ostile attivo non siamo lontani UAB ostile in sorbono c'è la munizione se volete sento qua sopra UAV nemico nel settore bombardamento di precisione alleato in arrivo UAV ostile in Sorbono arriva il nostro attacco con mortaio ho marcato gli altri operatori di quella squadra danniamoli UAV ostile attivo c'è una cosa sotto soldato nemico in arrivo one shot quilo mi ha sparato un altro nascosto credo c'è uno nascosto buona caccia avrai un'altra possibilità non sprecarla corto mi servono cure no no mi colpiscono guardale carajo voglio un medico si stavano tornando quell'altro ottima uccisione marco il resto della squadra sulla mappa tattica buona caccia il gas è sempre più vicino tornerai a combattere al fronte fatti valere ho trovato un attacco con mortaio dirigiti alla zona sicura guardate guardate Un nemico in arrivo nell'area. Arriva l'attacco con mortaio alleato. Compagno tornato in campo. Ben fatto. Un nemico in settore. Caio, ma sta dispersando. Entrambi. Saldi attivi. Prezzi delle stazioni di acquisto ridotti. Uccisione confermata. Sappiamo dove sono gli altri. Sei di nuovo in azione. Dacci dentro. C'è un altro sopra di te. Versaglio a terra. Marco i suoi compagni. Ritorno sta per finire. Mi raccomando. Saldi conclusi. Prezzi in aggiornamento. Ho marcato gli altri operatori di quella squadra. Stagniamoli. Gatti in avvicinamento. Sta arrivando un nemico. Attenzione in alto. Sto addosso! Nemico distrutto. I suoi amici sono marcati sulla mappa tattica. Mi servono colpi di medio calibro. Mi servono colpi di medio calibro. Aspetta-se verso la zona sicura. I rimparci sono in arrivo. I rimparci sono in arrivo. In quarto. su, c'è un checkino nemico c'è una mina qua ah, si, era un altro anche da quell'altro lato ritorno non disponibile o la va o la spacca mi hanno preso di mira è ancora una la scena si, era un altro 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 Grazie a tutti. 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 Oh, che schifo, cazzo, questa arma. Mi servono colpi di medio calibro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tempo scaduto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Nemico in arrivo. Grazie a tutti. indietro. riscaldamento. riscaldamento finito. preparati a tutti. avanti a tutti. Sì, sì. Bà, mamma mia. Mamma mia Stasera solo partite di merda E' pieno la Un compagno è tornato in squadra, bene Attenzione, c'è una stazione di acquisto nemica Un'avvio stile attivo Un'avvio stile attivo Aspetta che... In arrivo Lo stile localizzato Obiettivo principale raggiunto, bersagli eliminati Nemici, quick Vado qui Raggiungi la zona sicura Un'avvio stile attivo Lì giù Lì do bombardamento e pesco e muore un altro giù morto morto i rimporsi sono in arrivo compagno tornato in campo qui abbiamo un lantero di equipaggiamento identità dei bersagni confermata eliminateli che veloce viene cazzo missione 1 soldato nemico in arrivo ottima uscita gli altri operatori di quella squadra stagniamoli scansione occupazione bersaglio a terra marco i suoi compagni il nemico sorveglia l'area operativa state bassi o nascondetevi in acqua sono treco posizioni marcate ottima uccisione marco il resto della squadra sulla mappa non è che lancerò un attacco con mortaio a riparo mi ha ammazzato con una macchina questa non l'ho visto qui notati che arriva vediamo ah non 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 oh oh sono sopra attenzione in alto contratto fallito richiedo ricognizione aerea confermato UAV operativo in zona un compagno è tornato in squadra bene dai 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 spara-lo spara-lo bravo ma non mi ha... ah si pensavo che non mi ha arrivato eh possiamo prendere eh? se volete mi sparano addosso! ma che cazzo spara? a occhio! la finestra di ritorno sta per chiudersi UAV nemico nel settore attenzione! saldi terminati prezzi tornati alla normalità compagno tornato in campo ben fatto nemico in arrivo nell'area uavvio stile attivo uavvio stile in un servono il gas è sempre... ah ne ha visto ne ha visto ne ha visto strut stanniamoli una squadra nemica è sulle tue tracce evitale i sopra-lo rispiramento autorizzato mamma mia che cazzo è qua aaaah è pieno anche la puuuuuh ritorno disattivato adesso non si scherza piu nemico qui non si scherza piu non si scherza piu un compagno è tornato in squadra bene soldato nemico in arrivo uavvio stile attivo uavvio stile in servono perdono no occhio questo settore sconda cazzo movimento sei tra gli ultimi 25 bel lavoro E' un peccato! E' un peccato! Ehi! E' un peccato! E' un peccato! E' un peccato! Dai, dai, fermati! Non si ferma, cazzo! Oh! Mi aspettavo! Era sotto acqua! Aspetta! E' un peccato! Quelle F-TAC! Non sapevi o que? Ah, si! Perquei pistola in que pena? Cazzo! E' un peccato! Me ricordo quanto faceva cosias, tavo fino alicotro de matina! E' un'ultima! Cuiduto! Oh! Oh! La bomba! Me ricordo! Et tengo la bomba! Oh! Calma! Ilia façà! Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. No. Versaglio a terra. No. 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 i suoi amici sono marcati sulla mappa tattica occhio alle spalle, finestra di vittorno in chiusura è arrivato uno sopra l'altezza diriggiti alla zona sicura i rinforzi sono in arrivo granata lanciata tiro una granata fumogena guarda quella squadra, stanniamoli UAV nemico nel settore io e cazzo io quell'altro sono ferita attenzione, ritorno non più attivo si fa sul serio UAV io stile attivo UAV io stile in sorbono nemico in arrivo nell'area genio cazzo aci vivo? tìa mano cosacei? rana? rana? Se arrivo a quello lì per prendere un UAV cazzo Andiamo Consiglio di puntare subito alla zona sicura C'è molta strada da fare Oh Richiedo ricognizione aerea Sono iniziativo E c'è uno a shop da sola Ah mi sa che tutti sono su C'è uno qua davanti a noi E un altro a shop C'è uno a shop Guardalo 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 Oh Dai ciao Buon notiz, senti on the one Ok, ciao ciao Grazie